E' la commedia all'arte del pete gules, scritta da Francesco Mirisola con la regia di Simone Diotalevi, a chiudere il 13, 14 e 15 aprile prossimi la rassegna di teatro dialettale Cianfrusaglia edizione 2015. Sul palco, con inizio spettacoli alle ore 21 e 15, tornano i dieci interpreti del vernacolo fanese della compagnia El Burdet, attori in grado di travolgere il pubblico del Politeama con una commedia in cui l'uso della parola diventa un gioco leggiadro. E' un cast internazionale, abbiamo addirittura due pesaresi quest'anno, quindi per la pace nel mondo uniamo i due territori, abbiamo gente che viene anche da Ponterio, gente che viene da Bellocchi, proprio un'integrazione totale, addirittura anche una ragazza, una new entry che viene dall'America, una biondona che spolverizzerà il Politeama. Da domani, giovedì 9, partirà la prevendita al Politeama dalle ore 18 alle 19 e 30, mentre da sabato 11 aprile con orario 9, 12 e 16 e 19. Noi siamo lì ad aspettare, speriamo che siate numerosi, volevo fare una considerazione, in questo momento di difficoltà economiche il biglietto costa 12 euro, sono due atti, due tempi, quindi 6 euro per tempo. Se uno già ride dieci volte e 60 centesimi a risata, ride venti volte e 30 centesimi, quindi più ridete e meno vi costa, non ci si compra più niente a quel prezzo lì, quindi approfittate, ridete più che potete.